Ok Vediamo che adesso possa migliorare la situazione Sinceramente Adesso proviamo a cercare di capirlo Nel frattempo vado su conquista grande ragazzi Perché cortocircuito è veramente un incubo Andiamo su partite un po' più corpose È una classica partita di dominio Però se non erro è a 33 contro 33 Ha aggiornato con noi anche Luca Adesso dovreste vederlo disponibile anche in chat Dovreste vedermi E sta caricando il video Ok Ho ragazzi riavviato lo streaming Proprio perché Questa è la mia macchina con lui Bello Sul chopper Mi piace Ok no Dicevo Ho riavviato tutto Proprio perché Adesso sembra essere un filo più fluido Sembrerebbe Sì Ok no Purtroppo a volte succedono questi disservizi con Con twitch Ok Ah ho sbagliato Con twitch Con twitch E non so bene a che cosa sia dovuto A volte però Non è la prima volta che mi capita Nel frattempo cerchiamo di catturare A E ho sbagliato operativo però Adesso volevo cercare un operativo come dico io Ok Ok Disparso No Questo c'è l'operativo che dico io Ovvero fucile a cecchino Quindi fermi tutti Altrimenti questo mi Cotenna Alla grande Ragazzi Nel frattempo Chiaramente tenetemi aggiornato Sulla situazione Streaming Nel momento in cui Dovessero esserci problemi ingenti E vai giù È due ore che ti sparo Vieni qua Eh siamo andati Non riesco a capire come Come mai non riesco a Sì Ha ragione Principeromolo Però ragazzi Io non riesco a capire Per quale motivo Da lontano Non riesco a avere La stessa efficacia Degli altri giocatori Cioè Non mi sembra Di sparare così Da rimbambito Cioè Riesco a averla Solo con il fucile a cecchino Secondo questo Oh Finalmente Una kill Due Però Eh ok Però Da notare Come in questa modalità Sono già riuscito a fare Due kill Cosa che sarebbe Stato impensabile Nell'altra Due minuti Lo schieramento Io avevo la mia posizione preferita Sul B ma Eh vabbè Che cos'è Cioè non c'è neanche il tempo di pensare Cioè incredibile Ragazzi Veramente Non mi sento tagliato Vado sul chopper Vado via Ciappa Adesso Spiegatemi Questa kill Cioè Non posso salire Su un chopper E spawnare morto Ragazzi Veramente Sono Depresso Uscirò da questo Screaming Depresso Non ci posso credere Cioè Non Non me ne capacito Cioè Veramente Istiga Il camperamento Incredibile Due colpi No ragazzi Non è fatto per me Comunque Questo gioco Mi dispiace Non sono tagliato Per Battlefield Totalmente Non posso dire altro Perché veramente Non riesco E combinare nulla Io ci riprovo Puntualmente Anche guardando la mappa Ci metto di buon cuore A cercare di capire Come muovermi Però Muoio in maniere Inspiegabili In circostanze Incredibili Ragazzi Non rego Uno scontro Che sia uno Più che altro Mi dispiace Che state passando Una partita A vedere uno Che muore Però Ragazzi Veramente Cioè Non so Che cosa fare Si è arrivato Un chopper Mi sento impotente Ragazzi Veramente Incredibile Questa cosa è Incredibile Vi giuro Che non so Come comportarmi Incredibile Questa cosa Oh Qua mi piace Io non so Riesco A farmi Buono Se mi mettessi alla guida No La guida No Bello Mi piace Anche se non lo so Guidare No No Ok Via 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 Scappa 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 Questo Scappa No Ragazzi Veramente Adesso Lo lancio Veramente Dalla finestra Il pad Comunque Perché Come dice Principer Romulo Perché Non è Possibile Sto per morire Di nuovo Questa cosa È Pazzesca Guardate È Incredibile E Chiaramente Da qua Non posso fare Una cippa Di niente Solo che Gli altri Con il loro Certo Se spara Una moto Però da qua Non combino Nulla E dall'altra parte Il resto Del mondo Mi ammazza Tranquillamente Con due colpi Io veramente Sono senza E gli altri Non li pesco Anche da lontano Continuo a sparare Non faccio Nulla Io non riesco a capire Se favorire La precisione Non lo so Non so Veramente Sono spesatissimo Ragazzi Oh Non ci credo Ho fatto una kill Sì 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 No Ok Due kill Normali Ho fatto pulizia Non ci credo Sono emozionato Vi giuro ragazzi Che sono Emozionato Non ci posso credere C'è un sacco di gente qui però Perché altro Sto cercando anche Di utilizzare la mappa In maniera sensata Ma faccio veramente fatica Oh Oh Ragazzi attenzione Svolta nella partita Che si stia imparando a giocare Mi sembra sono tirato da solo Ho bisogno di un'arma Adesso sono rimasto bloccato qua Grandissimo Sto gasando ragazzi ci siamo Siamo alla svolta Ufficiale qua mi devo dare le balle Perché so che fra poco mi fanno Aia 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 Eh vabbè ci sta ci sta legittimo Buona che questa mi va bene Però ragazzi finalmente Via via fammi Dai 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 rimani vivo Rimani vivo Rimani vivo Adesso muoio subito Uh che rischio Però al prendi salute Prendila però Eh c'ho per stavolta C'ho proprio scotennato No comunque ragazzi Ho deciso che farò così Cioè metterò la classe operatore E nel momento in cui Bello Bello Adesso bisogna solo di qualcuno Che muoia Perché ho la classe Sbagliata chiaramente Se lui morisse Mi farebbe un bel favore Oh grandissimo È venuto su lui Bene E io che pensavo di aver fatto Le cose bene Chiaramente Tra l'altro io vorrei capire Anche il punteggio Davanti a due E a lei di nuovo Niente Faccio dei Due o tre round Giocare bene Stiamo perdendo Eh infatti abbiamo perso Dai ragazzi 580 a 0 Io non riesco a vedere Neanche il punteggio Domani gli altri Mi scotennano Cioè stanotte Devo giocare tutta la notte Per forza Se no gli altri domani Veramente in In streaming Mi ammazzano E Luca Cosa stiamo combinando 7 7 11 Vabbè Dai Se non è anche arrivato Sesto Cioè su 16 E va schifo Io però Scusate Ma adesso Avrò la possibilità Di comprarmi qualcosa Sarò diventato Un filo Più bravo Adesso però Oh attrezzatura Oh vediamo un attimo Attrezzatura 1 Professionista Professionista Arma primaria Scout Lo scout elite Mirino Compro un cazzo No niente 18.000 dollari Sono poverissimo Non posso fare una cipagnia Non posso comprare niente Ah no no Mobile Ma prendiamo una cazzella Lui è Johnny Johnny È entrato nella polizia Perché lui viene da Detroit E gli piace suonare la sirena Tra l'altro Pezzoni Chiaramente del sound of police Io scendo a D Johnny Ciao Adesso Sono da polizia Mi è rimasta in testa Ragazzi Bellissimo Oh recuperiamo Questo punto di controllo Lui invece è Jamie No Johnny e Jamie I due poliziotti di Detroit Allora Tra l'altro Luca Le prese con una moto Come lo vedete Lanciato Quel segnalino Che si muove All'impazzata È Luca Ecco infatti Lo vedo ancora Lo vedo vivo Ma non so Per quanto ci rimarrà Ostia miseria Ma quindi Principer Romolo Mi stai dicendo Che se io miro Un nemico Riesco a vedere La distanza A cui si trova Principer Romolo Nel frattempo Noto che ha anche Degli ottimi gusti musicali Era troppo bello Per aver ucciso io Chiaramente no Come è stato Punto di controllo Uuuuh Deve far male Questa vero E questa? No Dopo una doppia Ah ecco infatti No Tu devi impostare Quella cosa Con la freccia Per far arrivare Il punto Preciso Cazzo Ho fatto una doppia Kill Fantastica E adesso No no Non lì Qua sul D Mandami sul D Ah Hai capito Guarda che storia Incredibile Guardi quante cose Che si scoprono In streaming Eh Come le dice Vado a giocare a Battlefield Non è una roba Che dice Prendo gioco Anzi Miei ragazzi di là Adesso Se riusciamo anche a capire Dove è il punteggio Va che bello Qualcuno La la Spottate un sacco Guardalo la L'infamone Questo è almeno 200 metri L'ho preso Sacca miseria Vieni qui Eh Ho dei problemi Serissimi Con questa cosa Quanti saranno 500 metri Questi Sì dai Ma vada via Ciao Eccoli la Va che bello Vorrei capire però No mille metri Mi sembra tanto Ostia va che difficile Adesso sto qua Tutta la sera Finchè non ne pesco Uno in questa maniera Allora Sarà a 200 metri Qua no Oh guardalo lì Va male bene Tac Oddio Se prendo quell'immoto Da qua Faccio un disastro No niente Sono andati A fare un disastro Dall'altra parte Allora Sììììè Eccolo lì Era a 200 metri Non 500 Pescato alla grande Questo è Hai messo a 400 Quelli al massimo sono 123 metri Ah shadow Io voglio un corso Guarda le bandiere Ti danno riferimento per me Guarda io ringrazio al massimo Shadow Come era Shadow necrosis più che altro Perché io sono una vera pippa Cioè nel senso lo ammetto ragazzi Non ho problemi a dirlo che a battlefield non so giocare Quindi più mi aiutate voi Per bandiere intendiamo Cioè dove è noto le bandiere di cui parlavi Però noto che adesso sui 200 metri da qui Mi sembra che marchi piuttosto bene No cosa ne dite Mi sembrava bilanciato sotto questo punto di vista Punto di controllo contestato Da dove stanno arrivando No ok lo stiamo recuperando Ah alfo bravo Charlie e Delta Ok ricompostato questo Eh no ok ho capito No allora Però ah in questo caso Ok però non riesco a capire Cioè Ah che scemo Scusate Ok ho capito ora Non avevo capito cosa facevate riferimento Cioè quando io guardo la bandiera mi dice che distanza è Infatti vedete se guardo B Adesso mi da 130 270 Ok perfetto Adesso ho capito Lì è 164 Vado a 200 metri Quindi faccio così E dovrei riuscire a fare quello Adesso appena salta fuori E metto fuori La testa Infatti adesso No 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 Eccolo lì Solo che non riuscivo Non riuscivo però Cioè Mi dava da 0 a 200 Se non volevo dire Una stupidata Infatti si Mi da 0, 200, 300 Probabilmente perché È un fucile camufo Cioè Scamufo Fa un po' quello che vuole lui Il crapino Gli stavo prendendo in pieno Ed è saltato In questo caso siamo tornati a 0 Che spavento Ho fatto una kill però Mi hanno preso In pieno Esatto Ci siamo Comunque Ok ragazzi Pian piano Cioè vi ringrazio anche Dall'aiuto Perché Veramente Stavo facendo fatica A capire un po' Di dinamiche di gioco Devo essere sincero Quindi Adesso ho sbagliato operativo Ale Anche se mi sembra Che con il punteggio Adesso siamo un massimalino Pregetemi se sbaglio C'è un trucco Anche su questo fucile Domanda Perché da lontano Io con questo Mi sento veramente Vulnerabile Cioè Non riesco a sparare a nessuno Quei due adesso Mi stanno puntando Alla grande proprio No Perché Ma lo stavo scassando Questo Guardate che bella Questa postazione Su Ah da qua la pesco Oh ma che roba Sono 200 Perfetto Eh però da qua Sono anche Che bello conto Allora concentriamoci un attimo Per favore Dai che ti pesco A te vieni qua Sì Sì Il da la distanza Questa eh Un cacchera fermo Lì 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 Bello lui Piace 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 La grande Madonna Le mie abilità Le mie abilità da cicchino Stanno andando Veramente Degenerandosi Alla grande Mi sento un vero Cioè un vero Un vero camperone Oltretutto perché sono qui A cercare di prendere Ah lui è scappato Là Eccolo lì Vieni qua Fermati lì Sì Ragazzi è questa Ok Ah è chiaro E' effettivamente Trattenere il respiro La prima regola Per un cacchino Eccolo là Eccolo là Eccolo là Pescato No Andato E ovviamente Arriva colui che era stato preso da lontano Devo mettermi In posizioni Differenti Perché sono un po' troppo 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 esposto In queste cose E oltretutto sono qua Siamo tutti qua A cecchina Oh stiamo di qua Va che siamo tutti qua A cecchinare Ma Nessuno che conquista posizioni Dobbiamo stare qua A recuperare Dei punti di controllo Altrimenti serve a nulla Dai basta Mi butto nella mischia Basta cecchinare Anche se mi Sei affascinante Mi butto nella mischia Quindi operatore E andiamo a sponare Dove? No Io voglio sponare su di là Ma non si può Ok forse era meglio andare a cecchinare Eh infatti Niente Torno a cecchinare Ho deciso No No basta Adesso facciamo Booster Sizio Sniper Fantastico Sempre su D Però Voglio un posto Che anche un rompimento di balle Venirmi a prendere Oh come questo Ma che bello Che è Bisuale su tutta la mappa Ostia Sì anch'io Esatto Principe Romolo Ha una curiosità Piuttosto interessante Cioè vorrebbe sapere Cosa sta facendo Luca Cioè vorrebbe cercare Di capire Cosa sta facendo Luca in questo momento Lo vorrei capire Anche io Perché sono Vraimenti Molto curioso Sì comunque Bussarsitio Sniper Neanche il poligono di tiro Di Samarath Ce la fa qua Cioè Mi sento veramente Una pipa Indecente Sì Luca E' buono Nei confronti del prossimo Lancia Medikit Io nel frattempo Sto cercando di spottare Qualcuno Ma non ne pesco Più neanche uno Comunque ragazzi In chat Se volete darmi Dei corsi Di Battlefield Io Io Mi Cioè voglio fare Da cavia Per i vostri corsi Perché se posso Cioè se riesco a imparare Io posso imparare Tutti Perché veramente A Battlefield Marco ma Veramente di un male Oh lui è mio Sono arrivati in due Aiuto Questi saranno 200 metri Mi è scappato due volte Bella madonna Ma perché non ci arrivo Ah perché saranno 50 metri Cosa è successo? Cosa mi è arrivato qua? Ok no Bizz in effetti In chat dice Che se conosce bene Luca si sta lanciando A caso Nella mischia Come fa con tutti i giochi A cui gioca di solito Perché adesso Vedo tutto Svuocato Perché stiamo perdendo Vero? E anche male No Cosa sta succedendo Ragazzi aiuto Qualcuno mi sa Delucidare Su questa cosa Vedo tutto male Oddio Una tempesta Raga aiuto Luca dove sei Luca Non uscire Con questa Ma che ridere Ragazzi No Ah lì 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 Si fa di qua Anche lì No look Eh Che kilk ha sparato Lì qua Ragazzi Ma che vento C'è su questo deserto C'è su un casino Incredibile Mi metto per autore Adesso faccio Un disastro Su questi qua Mi scasso tutti Ragazzi Quindi Le mappe sono dinamiche Quindi Mi sembra di capire Concordate in questa cosa Ma Da lontano raga Non si vede niente Ce la deve essere Niente voi raga Con i fucini normali Non riesco a capire Come cacchio Si faccia Ah ecco E' Luca La causa del vento Quindi Immaginavo Vizio No Che classe ho preso Ho preso una classe Che credo La classe Pugnorante Di Battlefield E vi lancio All'avventura Quelli che mi c'erano Prontissimo A dominare le folle Nel cross combat Aia 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 Verso 469 a 0 Io non capisco Come facciamo A arrivare a 0 Cioè Teniamo metà Delle con Allora Shadow Shadow Necrosis Per favore O Necrosis Come preferisci Mi spieghi un attimo Com'è il sistema Di calcolo Dei punti Di questo Cioè Di questa situazione Perché io Mi sto sforzando Veramente Ma non riesco a capire Quale sia La Cioè Quale sia La dinamica Per il quale Allora Nel frattempo Luca ci abbandona Stavo leggendo Le vostre chat Quando passo in silenzio Perché leggo Ciò che scrivete In chat Auto Dell'organizzazione Suv Corazzato Bello tamarrone Bello Bello Via Prendiamo Suv Corazzato In partenza Adesso mi piazzo Su E O su Si su E E faccio un disastro Oppure su B Nel mio posto Tra i cassonetti Un po' Nel frattempo Ci saluta Luca Che è appena staccato E noi siamo rimasti Giù dal Bene Dal suv Andiamo a vedere Ah Siamo sul Lui è Pedro Invece Pedro E Juan Vengono dalla periferia Di New Mexico E appunto Amano fare gare E combattere tra di loro Lanciandosi addosso Ok Allora Intanto lo chiameremo Shadow Comunque È conquista Fare punti Conquistando con le bandiere Fili ci siamo I punti vanno a scalare Quindi le due squadre Partono ad 800 Che arriva a 0 Ha perso Perfetto Ok Non mi era chiaro Il discorso Che andassero a scalare Tutto qui Quindi adesso Inizio a capire Infatti stiamo Eh no Come faccio a avere gente dietro Dai Chiaro no Ok Adesso ci sono Cioè Mi era Mi era sconciuto Questo discorso Del contrario Vado su A Adesso Mi metto a cecchinare Subito Buona mia classe Bello tranquillo Pasato Oh Ma che bello Allora Voglio un Bello spot Diverti Ah ok Qua siamo a 95 metri Solo che 100 Non ce l'ho Al minimo È 200 Questo potrebbe essere Un bel problema Andiamo a bersagliare D A questo punto Buona questa prima kill Io volevo fare un po' di spawn kill Qua Dove è finito Quello che guidava Raga Ah 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 Ma È morto anche lui però Eh infatti Siamo morti assieme Dopo aver giocato Questo piccolo Questo breve Ma intenso Nascondino Bene 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 Mi piace comunque Questo viaggio Alla scoperta di Butterfield Eh Ale Un'altra volta Ho ucciso Anch'io ma Una doppia kill Che non lascia spazio A dubbi Oh Su C Adesso mi impiazzo Su C Dove c'è il palazzone Che ho visto prima Ma Ecco Delucidatemi Ma che ridere Lui si è Ma lui può fare quello Anche io voglio farlo Oh fucker a chi Vieni qua Tra l'altro Quanto si insultano In questo gioco Ragazzi è bellissimo Cioè nel senso È divertentissimo In questa situazione Ma si insultano In una maniera Incredibile No Ce l'abbiamo fatta Ma sbaglio Anche qui Ha un attimo Laggato alla grande Io voglio No Di Di sotto attacco Simbrerebbe A 265 Aia Aia Cosa è successo Ah è scoppiato il Chiaro Arriva Ma lui Cosa fa Che pazzo Belli Sono Cioè sono affascinato Incuriosito Da questa situazione Ma Mi ammazzano I Allora Io faccio Spontare Il mio crapino E a 300 metri Chiaramente Campero Là Almente ci staremo Sparando a vicenda Io e lui Perché anche prima Mi ha fatto qualcuno Esatto Infatti Non male Vero Anch'io Ho adorato E apprezzato Particolarmente Il Però il problema È che lì sono 100 metri Non posso scegliere 100 È incredibile Che sapere Niente Ogni 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 Due Per tre Quando Mi Mi Metto Lì No C Non mi Piace Allora Oltretutto No Stiamo Perdendo Stiamo Perdendo La partita Adesso Vado Su B Cerco Di Risolvere L'altra Se Anzi Ieri sera In realtà Non l'altra Sera Avevo trovato Un punto Ah no Questo va preso Ragazzi L'ho perso Cos'era Ieri sera Avevo trovato Un punto Fantastico Tra due Cassonetti E voi direte Due cassonetti Però Due cassonetti Che erano Molto strategici Per prendere Sia A Che C Adesso Cerco di Arrivarci Ah Mi stanno Mirando Alla Grande Salve Questi Sono Tanti Per me Sono Veramente Troppi Aia C'è gente Ovunque Sì Così Stiamo AIA anche questa partita ah uno l'abbiamo fatta però comunque ragazzi io di qualità quando uccido col cecchino uccido una volta ogni morte di papa però uccido sempre con gli headshot adesso venite venite a conquistare madonna venite a contestarmi ci dai ed è qua ma cos'è successo adesso io sono veramente vi giuro ragazzi io sono turbato nell'animo questa notte la passo a giocare tutta la notte a battlefield domani spadroneggio perché non è possibile umani spadroneccio come direbbe il buon abbattantuno comunque ragazzi in chat potete tranquillamente darmi della pippa insultarmi perché effettivamente stasera voi vedere che l'unica arma che ho caccato fino adesso probabilmente quella che mi trovo meglio tranne che ovviamente grazie bizzi è sempre un piacere notare il supporto della redazione grazie a tutti sì ma abbiamo una sola posizione adesso io giocherò a prendere le posizioni corri forest adesso sto facendo un cross the map lanciatissimo ah Luca non sapevo che Luca facesse così anche con te beh a questo punto allora lo prendo come uno sprone vizio alla grande sono d'accordo vizio quando è che vieni a sparare con noi qua a sparare a cercare di colpire qualcuno che vieni a sparare perché in realtà è quello che sto facendo oh sto facendo sto iniziando a rendermi utile con la squadra perché arrivano bello mio quanto gas guardate ragazzi incredibile comunque devo dire che stando dopo l'is quando quando impersoni le guardie è fantastico e comunque si bizio effettivamente in chat scrive che alla games week ha dato prova delle sue non abilità a giocare agli spartutto e posso confermare alla grande però c'è anche da dire che non ha dato sfoggio di grandi abilità o meglio no adesso perdo il tifo di bizio per sempre però c'è esatto viene oh viene per quanto riguarda la esatto diciamo che per quanto riguarda lo spara gli sparatutto in generale o meglio lo sparatutto battlefield in sé perché io poi diciamo che me la cavicchio su code e halo però per quanto riguarda battlefield ingaggiamo shadow senza dubbio negli streaming in maniera che riesce a dare dei contenuti magari un filo più un filo meno funerari diciamo guardate con che stile sono uscito dalla situazione ingarbugliata allora nel frattempo vado a lanciarmi totalmente comunque adesso che ho preso un po' più di di mano dopo questa voglio tornare a fare una partita in banca però lui non va giù non è possibile adesso non è andato giù bello ci siamo lanciati addirittura che cos'è che cos'è ma perché ok ok via ragazzi mi ha fatto la guida iniziativa sotto sì 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 andiamo con Jay Santos qua fuori al finestrino come i bulli via solo che tu sai che non è buona la vita dai io provo a spronarlo ah perché se va al selezionatore di tiro però devo capire bene sono rimasto appeso fuori al finestrino no sto cercando di capire niente io passo la vita a cercare di capire su qual è il filtro differente operatore 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 voglio su mi piace fuori dal finestrino affermativo ah qua si ma dove va lui? che giro sta facendo? basta mi ha lasciato qua per riuscire richiedi rilevamento gps richiedi disturbo punto di interesse attaccare e difendere ok ah ho capito boom via saltiamo anche in aria mancava come qualità di morte no? mancava anche questa allora non so se lo streaming ma è pure tu cali di frame nel gioco no 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 ragazzi nel gioco è tutto liscio fluido il problema sta nel fatto che mi sto notando negli ultimi giorni che spesso e volentieri soprattutto verso quest'ora cioè tra le 8 e le 10 di solito probabilmente c'è uno dei punti di più affluenza almeno per twitch in italia e da problemi nello streaming ora ci stiamo attrezzando alla grande già lo faremo nel prossimo streaming su battlefield che sarà a breve molto probabilmente già domani però andremo a far cioè andremo a streamare con una scheda di acquisizione mentre al momento stiamo streamando con questo non parte ok però andremo perché al momento stiamo streamando con l'app di twitch su xbox one che per quanto possa essere comoda spesso e volentieri rivela delle delle nonostante sia in qualità massima dato che ce la stiamo stiamo streamando con una fibra ottica però il problema è che a volte da questo genere di problemi non dovrebbe presentarne più nel momento in cui ci troveremo a appunto utilizzare una scheda di acquisizione box che tra l'altro abbiamo che è il nostro Simone ha recensito e appunto che potre su cui di cui potrete trovare la recensione sul nostro sito quindi tra le le ultime recensioni appunto troverete proprio quella di Simone riguardante il box di Avramedia per appunto il game capture e soprattutto quindi la possibilità di andare a streamare i contenuti recuperandoli direttamente da console chiaramente quindi io spero la partita sta per finire abbiamo solo 51 punti contro 500 avversari quindi per fortuna qualcuno ha provveduto uccidere quel nemico perché io ok tutti e due gli ha fatti gli altri perfetto boom giù di nuovo però si la cosa buona è che noto che in generale lo streaming abbia come si dice abbia mantenuto una qualità cioè nel senso perlomeno non ha laggato più di tanto certo è che sto notando anch'io che sta tenendo magari a volte una qualità minore per tenere la continuità esatto grande principe romolo nel frattempo link in chat a tutti voi quello che è lo speciale realizzato da simone sul box esterno di avermedia che è quello che finora abbiamo sempre utilizzato per i nostri streaming di gruppo proprio perché l'app di twitch su xbox one non permette di streamare l'audio del gruppo e della party chat che è una mancanza non indifferente e però è una delle diciamo delle implementazioni che è stata messa in programma da twitch e da xbox però sembra che non siano ancora arrivati a un punto di diciamo ritrovo e quindi non si sono ancora riusciti a venire incontro abbastanza per implementare questa nuova funzione detto ciò io farei l'ultima partita o meno l'ultima spero sia non sia inoltrata particolarmente in modo da poterla giocare quasi interamente altrimenti scusate le ultime due in maniera tale da poter rivedere un attimo la modalità rapina che secondo me è una delle di quelle che andrà a anzi che senza dubbio non secondo me andrà a ma partiamo dall'inizio perfetto andrà a caratterizzare il gioco scossiamo dalla parte della polizia quindi potremmo fare i cecchini senza dubbio però anche la parte di meccanico l'MP5 non è male vediamo se possiamo andarlo a cambiare l'attrezzatura cosa c'è qui è il mirino però l'ho sbloccato ancora tutto sbloccato a parte il mirino standard potrei ma si ragazzi facciamo uno strappo alla regola proviamo qui proviamo questa situazione andiamo dentro entriamo subito in banca e cerchiamo di essere attivi sul campo magari anche con un bel lanciagranate via io cerco di fare pulizia con un lanciagranate me la gioco da nabu con il lanciagranate ragazzi buona buona kill eh no allora mi viene chiesto se posso dare informazione riguardo chi farà parte della diretta di domani salvo torno professionista mi diverto di più ragazzi salvo qualsiasi tipo di evento straordinario teoricamente saremo io il buon Simone io il buon Simone Roberto e Luca chiaramente nostro clappo redattore o meglio come lo definiamo noi colui che tutto può e vede e dice e sente e fa l'egregio è unico e solo no scherzo però dovremmo essere noi quindi teoricamente saremo noi faremo come si dice uno streaming di gruppo quindi tutti assieme con la possibilità quindi di interagire anche con le nostre voci esattamente come avevamo fatto per Dying Light quindi il meccanismo sarà quello esatto si domani c'è il team sciacalli per chi ha visto diciamo lo streaming di di Dying Light esattamente il team sciacalli vedere se riesco a mantenere questa posizione che è piuttosto favorevole adesso dovrebbero passarmi proprio qua sotto ah lui si è lanciato così io aspetto adesso che si muovano esatto eccolo lì no da dietro peccato avevo fatto il come si dice avevo fatto il corriere ma sono stato tra l'altro che bella questa borsa che trasuda soldi in un'aniera incredibile fantastica proprio bella da vedere attenzione perché sono già i due di lì e dovrei entrare se lo possibile e che cos'è no niente sono entrato chiaramente entrato nel momento in cui siamo stati fatti è rimasto un solo pacco tra l'altro allora come potete vedere la partita adesso si sta svolgendo ok si stava svolgendo quasi interamente eh no questo qua non non lo faccio più oltretutto ragazzi voi non li sentite ma io in chat ho dei tizi che stanno urlando l'impossibile a tutti quanti in squadra ok hanno droppato il primo ah no bella questa bella kill uno due sacca terra cerchiamo di usarla recuperare sì una bella doppia questa ragazzi tre quattro cinque addirittura ragazzi attenzione no ho pescato di nuovo sì sei attenzione attenzione sai kill comunque vorrei farmi notare ragazzi hanno recuperato la borsa no il corriere è ancora fermo ok adesso mi piazzo qua chiedi mi schiava da qua sette ragazzi incredibile sono lanciatissimo stiamo anche recuperando la borsa scusate sono emozionato da questa mia prestazione solo che qua adesso siamo scoperti non vorrei che venissi a farmi qualche sorpresina da questo lato dai ragazzi sì recuperata la borsa bello ragazzi vorrei farmi notare che sono alla nonna kill non ci posso credere veramente adesso piango sono state partite in cui ho fatto meno kill questa cosa è pazzesca oh anche ah arrivano arriva arriva di brutto adesso cazzo è sceso si 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 anche lui è giù devo recuperare vite e andare sotto a cercare di salvare il tipo adesso doppia kill doppia kill ragazzi non ci posso cre- ah infatti è finito è finito tutto ma è stato qualcosa di fantastico ho fatto una marea di kill non è mai successo cioè ma proprio no cioè si nota dalla mia faccia essere fatta vero che credo probabilmente avevo una faccia essere fatta nel video incredibile eccolo lì il corriere è uscito giù eh no fatti in pieno se giro ragazzi no ho perso ho perso tutto vostro appoggio dove siete finiti cioè ma state guardando cosa sto combinando non è possibile mi sento troppo forte ma non è vero cioè quella la cosa si un altro corriere a terra si ragazzi sono diventati fortissimi 18 uccisioni e 6 morti per favore vorrei un applauso virtuale adesso rigioco subito cioè questa la rifacciamo alla grande bizzi adesso non ti vantare perché a fifa abbiamo delle no ragazzi non c'è non c'è abbastanza attenzione su quello che che ho appena combinato non so se avete visto che partita che ho giocato cioè non è possibile cioè grazie bizzi che mi ha fatto l'unico che mi ha fatto un applauso virtuale oltretutto ma io vorrei non posso vedere fammi vedere la squadra poi c'è uno che urla come non so che cosa a fifa i premi cos'hai di premio bizzi a casa non sapevo ragazzi non avete idea di quanto mi adesso abbassa il volume delle cuffie in effetti così evito il problema oh perfetto alla grande voi mi sentite quella prima io abbassate il volume delle cuffie ma voi dovreste eh stavo guardando il computer voi dovreste sentirmi quella prima ah ma adesso è vero sono allora siamo dalla parte opposta adesso perchè siamo nel team e cambio l'operativo cambio l'operativo ok boom lui c'è rimasto io ah no va bene ne ho fatti comunque quattro vorrei farvi notare no devo cambiare l'operativo assolutamente adesso perchè sono dalla parte dall'altra parte viene operatore ed entriamo subito da qua adesso questi galletti che si mettono qua ad aspettarci ci pensiamo noi infatti uno lui era proprio il simpaticone che mi aveva fatto prima via vai johnny apri che famo il corpo tanto ci coprono i ragazzi trivella trivella di brutto ok perfetto se l'audio è rimasto normale adesso ragazzi vi guardo che sono concentratissimo si comunque chiaramente ho appena letto che vizio attribuivo al culo la vittoria di roberto e non posso che dargli ragione chiaramente dobbiamo mantenere questa postazione nella maniera più oppurata possibile eh no e ho poca vita primo posto torino giornalisti sì sì ti sentiamo con noi ho organizzato da Yale ma vizio quello di quest'anno ah rianimati dal dottore perfetto comunque sì bizio roberto ha vinto di culo ma domani o meno domani adesso non posso svelare dettagli però sempre se i nostri utenti avranno il piacere di vederci di volerci guardare i nuovi streaming qui ci aspettavano tutti non sapevo questa cosa se i nostri spettatori ah ok dicevo se i nostri spettatori hanno piacere su FIFA sicuramente questa l'ho presa proprio da scemo però non riesco bene ad utilizzare eh ok adesso che abbiamo preso i due però posso rientrare come professionista e inizierò a coprire i miei compagni per forza allora dobbiamo andare a prendere il secondo pacco e il primo pacco eh no uno si l'altro siamo finiti in mezzo a una porta un disastro non c'è su un casino siamo rimasti a metà tra una porta entriamo come meccanici amici via anzi no professionista vedevo amici wow che disastro che hanno combinato i due dove sono andati a finire alla mia destra ah era proprio dietro di me non era la mia destra bello questo suicidio in diretta non è stato per niente male ho goduto come un pazzo si si guarda che bella posizia da coperone qua e infatti ce la siamo bruciata alla grande io tornerei invece alla mia alla mia principale però abbiamo preso il pacco mamma mia quanto lo sto mancando mamma mia ho perso tutte le skill da cecchino che ho avuto nella prima dalla prima partita ho avuto delle ottime skill da cecchino che adesso ho totalmente perso bella questa si tripla una doppia ragazzi cosa gli ho stampato in fronte qua è lì adesso torna a casa se lo toglie con le pinzette scusate sto delirando ma questa sera sono in preda delle abilità no scherzo un po' da infame questa ma eh infatti ripagata subito dietro allora vediamo un attimo l'hanno organizzato di ogni modo non avrei partecipato mi sono soffato di vincere attenzione è un vizio modesto si riscopre in chat questa sera dunque iniziamo a avere sempre meno punti a disposizione per recuperare questo benedetto pacco e darci alla fuga in particolare in particolare cinque stiamo proprio per perdere la partita comunque Bizio a questo punto potremmo farti entrare nel campionato che stiamo facendo io e Roberto o proprio non ci sarebbe storia e no e finisce qua ragazzi finisce qui anche questa anche questa partita in questo caso abbiamo perso quanto ci siamo comportati prima esatto si Bizio hai visto come sono come sono magnetico ok io ragazzi esco dalla partita e vorrei andare un attimo a tirare delle prime conclusioni su questo primo 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 appuntamento streaming allora ci troviamo qui nella diciamo aspettate che spengo l'audio perché se no se mi risento in cuffia è un disastro quindi dicevo abbiamo fatto il primo approccio con la beta di Battlefield Hardline come si diceva in precedenza un Battlefield che si discosta dal classico e da ciò che abbiamo sempre visto quindi diciamo le ambientazioni classiche attribuite a Battlefield un Battlefield quindi in cui ci troveremo a fare a gara tra guardie e ladri in cui potremo appunto giocare addirittura a modalità rapina cortocircuito quindi queste basi che si muovono per la mappa e poi la classica con questa grande sulle basi è stato un piacere per me ricevere lezioni da voi questa sera in chat perché comunque devo essere sincero ho imparato solo con voi a muovermi e a muovere i primi passi e spero proprio che questi consigli che mi avete dato saranno preziosi domani quando faremo un secondo streaming ed ecco l'annuncio della serata quindi molto probabilmente domani adesso domani avrete la conferma sul sito ma molto probabilmente ci sarà un secondo streaming di Battlefield Hardline in cui saremo tutti noi della redazione in una singola squadra chiaramente non la completeremo perché non siamo abbastanza però andremo a giocare in cooperativa con il live commentary di tutti quanti quindi avremo la visuale di Simone se non erro e quindi avremo la possibilità di diciamo guardarci tutti quanti e poter dare dire la nostra nelle partite di Battlefield io spero che voi abbiate passato un ottimo due ore con me in questo diciamo in questo streaming vi ringrazio per averci seguito vi ricordo sempre che per aiutarci a crescere come comunità basta semplicemente schiacciare quel cuoricino che vedete sotto la chat perché il vostro follow per noi è sempre più importante e quindi come dicevo in precedenza ringrazio tutti quanti per averci seguito in streaming ci sentiamo domani aggiornamenti sul sito www.gamesurf.it e troverete quindi tutto quanto tutte le informazioni disponibili e possibili per ritrovarci in chat io saluto tutti quanti tutti coloro che ci seguono puntualmente Bizio Principe Romolo e tutti gli amici Shadow in questo caso che è stato molto preciso con i consigli che ci ha dato per questo rimando i saluti per la serata a tutti quanti e ci vediamo domani Grazie Grazie Grazie